Contenevano l'Ileal, un prodotto chimico proibito dalla legge perché cancerogeno, i 270.000 cosmetici sequestrati dalla Guardia di Finanza. Punto di partenza, due negozi di Verbania e Cannobio. Tre i denunciati. Nello specifico, i militari del gruppo di Verbania, durante i ciclici controlli sulla sicurezza dei prodotti hanno rinvenuto nei due punti vendita 157 confezioni di deodoranti, saponette e... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.